ben a tutti ragazzi sono TheGamer792 e voi siete The Gamerini e oggi siamo tornati in vecchissimi video di The Sims 4 tranquilli a Traskun non ha smesso di fare caccia life e niente ovviamente io mi occupo di videogiochi e a Traskun di gaccia life alcuni gaccia life poi magari in alcuni gaccia life lo aiuterò e alcuni farò da solo io però vabbè io mi occupo sostanzialmente dei videogiochi e dei video di gaccia life cosa che grazie a quei gaccia life siamo saliti di 100 iscritti cosa che vi ringrazio molto comunque oggi che andiamo a fare? oggi andremo a creare Gwen Stacy su The Sims 4 avete capito bene The Sims 4 Gwen Stacy vi metterò la foto proprio ora e la lascio per qualche secondo per vedere chi è ok avete visto ora andiamo a crearla allora allora il come dire il sesso il sesso già già l'ho fatto femmina il giovane giovane adulta la camminata o poi ho scelto questa camminata e ora sentiamo la voce credo di più una voce dolce oppure questa doce questa doce sì allora sì ora dovremmo scegliere le sue abilità allora quindi ora allora la carriera non giochi in poche parole da non so quanto tempo a The Sims e quindi mi sono dimenticato in poche parole è tutto buona creativa sì dai ok dai ok dai no le abilità già siamo lanciati bene le abilità va bene va bene ora oddio ok ora cambiamo un pochino i capelli capelli ok raga questi sono perfetti dobbiamo soltanto cambiare il colore ok ok questi sono perfetti ora ora labbra ok anzi no lei se mi sbaglio non è che porta un rossetto un rossetto quindi ah vabbè comunque allora dobbiamo cambiare un pochino gli abiti e magari un pochino il viso allora cambiamo gli abiti capelli capelli viso eh perchè non mi fa cambiare oh mio dio mi ricordavo che fosse così difficile di soccarare the sims ok allora oddio non è così grassa diciamo diciamo così no ok così dai dai no no così grossa così ok allora tutte abiti lunghi abiti cerco cerco eh allora no allora aspettate di queste magliette oddio no cambiamo subito cambiamo subito ok ah ehm mmm mmm allora diciamo 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 mettiamo mettiamo come abiti quotidiani questi dai per ora per ora per ora sandali tacchi ci sono visti eccoli qua stivali non mi servono dei stivali più lunghi tipo ok questi sono perfetti invece qua fammi vedere anche questi no no ma io quelli ok 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 però non lo so non è che mi piace tanto il il pantalone la maglietta vuole qualcosa di più scolastico ecco ci ritroviamo ci troviamo quando avrò trovato qualcosa a dopo no niente raga non ho trovato di meglio ma vabbè ci accontentiamo così allora io credo che i capelli vadano bene magari magari possiamo possiamo magari mettere un pochino di trucco negli occhi perché se mi sbaglio c'è la del trucco no ok ok sarà tipo così ok corpi aspetta no anzi no ok ok vabbè non so che ho fatto ok va bene non mi dite che ho fatto vi prego allora perché perché non mi appaiono non mi appare il trucco a me serve il trucco no questi sono i colori della pelle non ci interessa a me serve il trucco no no tengo il mouse e il mouse questo lì tengo il controller mezzo rotto che va da solo a volte era era così ok ok era così vabbè ok raga ho zoomato ok allora andiamo su non so allora iniziamo ad andare innanzitutto sui denti ah si già era applicato ok 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 no e questo è il colore della pelle ok allora trucco occhi e sono di questi e sono di questi forse si così fisca ovviamente ovviamente è più bella di cioè più bella più bella qualsiasi che questa però vabbè io ho cercato di farla su The Sims però e non sono quelli della sopracciglia ragazzi sono scarso in stile di trucco si ok sono le sopracciglia vabbè neri già basta no magari le guance le possiamo fare un po' più ok più ecco qua labbra mmm si dai se lo mette lo mette rossetto ho visto l'immagine se lo mette e non è che proprio sta venendo chissà vabbè io ho cercato queste guancesi e niente spero vi piaccia ho fatto il possibile per farli assomigliare di più e niente raga iscrivetevi al canale intanto gli mettiamo il nome iscrivetevi al canale lasciate un pollicione un pollicione un pollicione un pollicione in su e e la e attivate la campanellina per restare sempre aggiornati e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ah giusto mi sono dimenticato di dirlo se se volete che faccia anche Peter lasciate un pollicione in su ciao